Il 19 luglio del 1992 era una domenica e in tanti ricordano ancora il momento in cui appresero la notizia della strage di Via D'Amelio a Palermo, 31 anni fa. Ecco due testimonianze che confermano come quel giorno segnò un momento di dolore collettivo che rimane nella memoria. Quel 19 luglio del 1992 è ancora impresso nella mente di Angelo Pignataro perché apprese della notizia della morte di Paolo Borsellino in modo particolare. Era un momento particolarissimo che è rimasto scolpito nel cuore di ciascuno di noi. C'era il compiando padre Scucces Salesiano di venerata memoria, Nini Scucces, che stava celebrando la messa per i bambini del Grest che quell'anno abbiamo organizzato assieme a tutte le parrocchie. Ed eravamo al circolo didattico del Cappellone, oggi Don Antonino Lamela. Cappellone San Nicolò Politi. San Nicolò Politi e mi ricordo particolarmente c'erano gli agenti del commissariato di Adrano. A un certo punto padre Scucces stava celebrando messa, era il momento proprio della consacrazione e si avvicina uno dei poliziotti, uno dei giovani e mi dice guarda devi comunicare a padre Scucces questa terribile notizia. Si è stato un attentato al giudice Borsellino. Io sono rimasto di stucco anche perché il giudice Borsellino è stato veramente un eroe dei nostri tempi che ci spinge a essere migliori. Il senso del dovere, il senso dello Stato, il senso civile. Borsellino è stato veramente per la nostra generazione un esempio, un testimone vivente di quello che è veramente l'amore per il prossimo, per gli altri. Padre Scucces quando io gli dissi, finita la consacrazione, mi avvicinai e gli dissi questa terribile notizia, mi guardò negli occhi, il suo riguardo non lo dimenticherò mai e mi disse me lo immaginavo, me lo immaginavo. Ecco era un momento particolare. Il grest, ricordiamo anche il grest adesso, la gioia di vivere dei ragazzi, il grazie ai parroci, agli animatori tutti. E quello è stato un momento, speriamo voglio dire, di rinascita. Il sangue che non si è andato in vano e non posso dimenticare, poi l'abbiamo studiato, Borsellino, il combiando, quando lui utilizzava quell'espressione, Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, per questo ho imparato ad amarla e a viverci, a non abbandonarla. Grazie giudice. Matteo Bua, tu che ricordo hai di quel 19 luglio del 1992, quando hai appreso la notizia? Era un primo pomeriggio d'estate caldo, come da noi sono sempre i pomeriggi d'estate. Ero tranquillo, un giorno come qualunque altro, ed improvviso diedero la notizia interrompendo i programmi, credo stessi guardando Rai 2, per dire che era successo questo fatto drammatico. drammatico, che mi sconvolse, perché sentivo veramente un afflato particolare per questo magistrato. Poi certamente la novità, anche rispetto al precedente attentato, è che avevano colpito il cuore della città. Quello a Falcone era stato sull'autostrada, qui si sono permessi di attaccare un quartiere, in mezzo ai palazzi, senza porsi il problema di chi potesse morire al di là delle persone che volevano colpire direttamente. Hanno colpito la mamma di Borsellino sotto casa, appunto, della sua abitazione in Pieda Medio. Matteo, io so che tu hai incontrato almeno una volta Paolo Borsellino qualche anno prima della strage. Era il 1990, era credo l'ultima festa del fronte della gioventù, si celebrava a Siracusa, lui è arrivato, doveva arrivare più tardi, invece ha anticipato con la macchina da Palermo, mettendo in crisi il questore di Siracusa. Era una festa dei giovani della destra italiana, il segretario del nazionale era Gianni Alemanno, il vice segretario Fabio Granata, e tenne la sua relazione. Ricordo brevissimamente due messaggi che mandò. Già c'era stato il maxiprocesso negli anni Ottanta, diceva che la mafia come organizzazione la si sconfigge, abbiamo visto che riusciamo ad arrestarli, a condannarli e a dargli gli ergassoli. Ancora dovevano essere arrestati però sia Rina che Provenzano. Quello che è difficile da sconfiggere è la mentalità mafiosa di chi pensa di poter convivere e si adatta alla convivenza. Credo che ancora oggi il problema non sia cambiato. I boss si arrestano, l'ultimo è stato Messina Denaro, coloro che pensano che con la mafia si possa convivere, che in fondo sia un fatto strutturale, è l'ostacolo più grosso che ci troviamo davanti.